Design per il benessere nei luoghi di lavoro, altro workshop organizzato da Action Group il 14 novembre 2013 presso il Centro Congressi Torino Incontra di Vianino Costa 8 a Torino. Organizzato in collaborazione della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino, il workshop vede riconosciuti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino e due crediti formativi dal Collegio dei Geometri di Torino e provincia. L'azienda è un'azienda che si occupa di illuminazione a LED di Varedo, nord di Milano e praticamente è nata dall'esperienza di un'altra azienda del settore elettronico che aveva messo a punto determinati sistemi. Con questi sistemi diciamo a disposizione abbiamo deciso di aprire questa società e commercializzare i sistemi a LED con un'elettronica proprietaria e con delle meccaniche proprietarie. Si parlerà dei vari prodotti naturalmente che facciamo con le novità che abbiamo introdotto introdotte perché abbiamo cercato di fare dei prodotti abbastanza originali partendo da un'elettronica proprietaria che ci ha dato il permesso di arrivare direttamente all'obiettivo senza compromessi una volta che è stato deciso qual era l'obiettivo a cui arrivare. Per fare un esempio, se a un certo momento ci sono dei fari industriali che hanno determinate prestazioni con la luce tradizionale siamo partiti da lì e siamo voluti arrivare allo stesso livello di prestazioni naturalmente con i vantaggi introdotti dalla tecnologia LED con i LED stessi. Per cui per fare questo senza accettare compromessi sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista di costo la strada giusta è senza altro quella di utilizzare dell'elettronica proprietaria.